La parte più difficile della giornata è questa, quando si dà da mangiare ai gatti. Quindi vado dentro, recupero la ciccia e porto da mangiare a queste 5 bestie. Dovreste anche sentire l'audio spaziale. Allora, 2 piatti qui, uno, uno, e uno. Eccoci qui. Qui, qui, qui. No, no, dovete mangiare uno sul suo piatto, qui. To, tieni. Avevate fame, sì? Ok. I gatti hanno finito di mangiare. Rientriamo momentaneamente perché piove e poi vedremo se riusciamo a farci sta benedetta passeggiata. Stop!